Il partito di Selle è pronto ad uscire dalle maggioranze consigliari di Sulmone Popoli se dovesse passare il progetto per la costruzione della centrale SNAM, ad annunciarlo Domenico Capaldo e Giovanni Diamante rispettivamente dei circoli di Sinistra Ecologia e Libertà di Sulmone Popoli che esprimono contrarietà alla realizzazione dell'opera in Valle Peligna. Risulta incomprensibile il fatto, affermano che la SNAM rifiuti qualsiasi mediazione e rigetti tutte le proposte alternative formulate sia dai comitati locali che dalla regione Abruzzo. Selle si è sempre apposta fermamente in questi anni alla centrale di compressione tramite il proprio rappresentante regionale Mario Mazzocca, ora non più assessore, ma i circoli locali non intendono fare sconti a nessuno in quanto se dovesse perdurare o passare il progetto della centrale inoltreranno anche una richiesta di uscita dalla maggioranza di centrosinistra e regione dove attualmente Mazzocca è consigliere con l'incarico di sottosegretario. Selle chiede un reale impegno degli amministratori regionali e locali al fine di trovare soluzioni politiche coerenti con la vocazione del territorio e rispetto alla scelerata scelta proseguono nello sblocca Italia che se attuato nei termini preannunciati rischia di pregiudicare qualsiasi forma di sviluppo sostenibile nell'abruzzo interno dei parchi. Sull'argomento i consiglieri comunali di minoranza di Sulmone, Prato La Peligna, Luigi La Civite ed Entoni Leone non condividono l'improvvisa accelerazione sulla vicenda della centrale di compressione alimentata da energia elettrica. Lo scorso venerdì nella sede dell'assessorato regionale all'ambiente a Pescara si è svolto un incontro tecnico con la SNAM dove sono state illustrate le differenze tra le due tipologie di centrale ma la Civite e Leone si dichiarano contrari a fornire un affrettato parere nell'arco di pochissime ore. Sembra essere, dicono, l'ennesima pistola messa alla tempia di una classe politica priva di autonomia perché non può essere una centrale elettrica la panacea di tutti i nostri mali. I due consiglieri comunali chiedono al sindaco di Sulmona Peppino Ranalli, ai parlamentari abruzzesi, ai presidenti della regione Luciano D'Alfonso e della provincia Antonio Lecrescentis e ai rappresentanti politici locali l'apertura di un tavolo nazionale interministeriale dove, unitamente alla vicenda SNAM, vengano poste e risolte in un'unica discussione le grandi vertenze del territorio.